Habemus Papam Alessandro Betam Primo Fom Gazem. Ma viste quante lingue che so? Se mi metto anche al papion, potrei far tranquillamente il segretario del partito di qualsiasi partiti di sinistra che lei fa sulla sera per trovarsi fra loro. Ecco, dopo 15 di stenti e dei patimenti l'Alessandro Nostram riuscì a partorire la nuova giunta. L'è talmente nuova che l'ha messo dentro due donne che se te le mandi in giro, 9 per la città proprio, 9, 9, 9, se te le mandi in giro, non so, te mi trovi, te vai al vicolo Beabù, te vai sul frasem o te vai, lo so, via cima a Tofino, probabilmente ti tocca mandare a dire la protezione civile a vedere dove è finire. Allora, dopo l'ha messo dentro un'esterna che la ciappa, talmente pochi voti, no? Che se fosse candidata, non so, a Massimem, a Sfrus, non sarebbe stata eletta neanche lì dove si vota 70, 80, 100 persone quando la va bene. Però, io mi dico, è brava, è la neo laureata, la sei laureata sull'attesi della raccolta differenziata. Io telefona subito alla mia sposa, io dico, tenete pronta che non veni a fuori, che magari ti c'è mancati, visto che hai 20 anni che ti fai la raccolta differenziata e quando magari butto una roba qui, ti mi dico, sta fermo, non sta a metterla lì, non sta a metterla alla via. Allora, dico, brava. Allora, oltre questo, posso dirvi tranquillamente, bravi, perché vi auguro che per i prossimi sei anni i fai la squadra fra loro, perché politicamente mi pare piuttosto deboli, però se la squadra non c'è nessun problema. Anche perché l'opposizione, il Cinque Stelle ha già dichiarato che farà un'opposizione sui temi. Del Fabro ha già pagato fuori, perché il Beta ha già garantito che quando una rampa in gioco il Costantino Matteotti dall'Amsa, farà il direttore Stefano Tamburini. Invece il Ravani, che sarebbe l'unica opposizione proprio di quelle giuste, non? Vosti debare, eh, mi raccomando, vosti debare, me la riferì il Vinicio con la centura e King Segantini, perché sia molto, molto vicino al patto. Ecco, questo è un po' l'augurio che fa. Chi è quella Zanlida? Scusa, ma dove è? Chi è lui? Mi sono fradi al porco, e te l'hai fatta grossa stavolta. E di noce ti so... Mi devo dinociare? Sì, di noce ti so che ti devi partire. Perché cosa non ti fai? Te l'hai fatta di più e di più ancora. Va bene che l'è la settimana del Quaresima, cosa dovrei fare? Di noce ti so un tanto, di noce ti so che fai venire avanti i frai. Madonna, che roba che mi fa fare! Fra olivo, eccolo qua, il fra olivo. Dato anche fra delle pole. Fra le cepe. Dato anche fra di noi. E poi è fra dopi. È fra dopi. Adesso devi dire le orazioni. Quelle di una volta? Quelle di una volta. Mi conosco uno di una volta. Dai che so, dai che so. Un'altra volta. Un'altra volta. Dove ti nel piattim? Che buon brodo nel gavim. Dove ti nel piattim? Che ben brodo che gavim. Tre ove ti nel piattim? Che ben brodo che gavim. Sadi aria meglio. Ancora più meglio. Se la nece un po' più meglio. Sadi a me meglio. I misteri dolorosi adesso. Patrizia Soprano. Aiutene noi. Massimiliano Floriani. Aiutene noi. Ricchi Zampicoli. Aiutene noi. Maurizio Loturco. Aiutene noi. Briozi dall'Ufam. Aiutene noi. Sari a me meglio. Ancora più meglio. Se la nece un po' più meglio. Sari a me meglio. Mario. Noi ti assolvendo tutti i peccai. Però se ti vuoi consiglio. Ti dovresti venire su a Vignole. Sora la Cesotta. Che gare il bacchè del Bruno Piuma Calzano. E lì. E lì. Che sproprietù. Ti potrai stare lì tranquillo. Parlargli di chi ti vuoi. Senza che nessuno ti rossa le azze. Che ne dice Mario. Ma seppi ti su serio. E lì. E lì. È morto. È morto. E lì. Non parla più. Miracoli. Mi dirà che le è miracoli.